Ciao a tutte! Oggi ho voluto creare questa nail art in attenzia, sui toni del beige e dell'oro. Parto stendendo una base bianca, dopodiché vado ad aggiungere uno smalto beige semitrasparente e infine vado ad applicare uno smalto glitterato. Se volete potete semplicemente fare una base bianca. Io preferivo fare qualcosa un pochino più beige. Ora, aiutandomi con un pennellino sottile e uno smalto oro, vado a creare le mie prime linee per il mio fiocchio di neve. Il procedimento non è difficile, ci vuole solo un po' di pazienza, un pennellino molto sottile perché ci aiuterà molto. Finiti i due fiocchi, io vado a realizzare alcuni pois. E la nail art è terminata! Spero vi sia piaciuta! Ciao! 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 Facimabero Joel